Sarà un anno pastorale aperto all'ammissione, quello dei consacrati della diocesi di Andria, che si sono confrontati nel corso di un incontro in cui è stato ricordato anche padre Michele Critani, il deoniano morto a causa del coronavirus, nel maggio scorso. Alba di Palo. Hanno scelto di vivere intrecciando la loro vita a Dio che si manifesta in un filo di silenzio sonoro. Sono coloro che hanno declinato la loro esistenza alla consacrazione al Signore, annodandosi a lui attraverso professione e voto pubblico, oppure facendo propri la povertà, la castità e l'obbedienza. Ad Andria, l'ufficio diocesano per la vita consacrata, ha organizzato un incontro dedicato ai consacrati, il cui banco di prova, come ha detto Papa Francesco in un'udienza tempo fa, citando il profeta Elia, è l'amore concreto verso il prossimo. Il Papa ci ha detto che i consacrati nella Chiesa sono un regalo per la Chiesa, perché ogni consacrato porta in sé il suo carisma. Questo silenzio del profeta Elia, quando è profondo e nasce dal cuore di Dio, diventa fecondo nella vita dei consacrati. E l'anno pastorale che li vedrà protagonisti guarda in una precisa direzione. Questo anno pastorale guarda verso la missione, ed è quella direzione che il nostro pastore Luigi Mansi ci sta suggerendo di vivere. Stiamo vivendo un tempo di grande carestia spirituale per tutti. Notiamo una grande assenza dei cristiani alla vita comunitaria, dovuta naturalmente anche alla paura del ritrovarsi insieme. E naturalmente noi consacrati in modo particolare non possiamo essere inermi davanti a tutto questo. Credo che ora più che mai la nostra vocazione ci spinge ad uscire, a incontrare tutti i fratelli cristiani battezzati di questa diocesi, a portare loro una parola di speranza, di consolazione, ma soprattutto a risvegliare la gioia di sentirsi parte di una comunità grande che deve riprendere il suo cammino insieme. L'incontro è stato segnato anche dal ricordo di padre Michele Critani Deoniano che il coronavirus ha portato via nel maggio scorso. Ho il ricordo di una persona amabilissima, molto propositiva, operosa e soprattutto con una grande passione pastorale nel cuore, perché si percepiva parlando con lui che aveva un solo desiderio, quello di trasmettere il Vangelo, di testimoniarlo con le parole e con le sue scelte di vita sacerdotale. Io ho sofferto tantissimo per il fatto che una volta ricoverato non abbiamo più potuto avere nessun contatto con lui, non si poteva visitarlo, non si poteva... E davvero ci è dispiaciuto tanto. Il pensiero che lui è morto solo ci fa davvero tanto, tanto soffrire, che però certamente il Signore l'ha accolto nelle sue braccia come servo buono e fedele.